Ok ragazzi, sono Cicca di Catena Pisa e andiamo di corsa a livello 8 della modalità storia di Splatoon Ok, se non ricordo male era quello qua sopra Io posso raggiungerlo semplicemente premendo sul gamepad perché già l'ho raggiunto Raggiunto, non raggiunto Ok, sono entrato così, vabbè Oh mio dio Si è l'ho l'8, duello serrato Vabbè, non mi hanno fatto regge Oh mio dio, questa è una mappa gigante Mio dio, vabbè Trovare la bergamena qua non sarà per niente simpatico, mi sa Delle 8 ring Oh wow Aiuto Ma guarda come sono... no, 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 aiuto Parla edizione, aiuto Vabbè, penso che la modalità online a quest'ora sarà molto peggio Con tutti che sono già diventati dei pro Prova a piacchiare un percorso con l'inchiostro Aiuto Sì, ma è proprio un'invasione totale Ecco, in quest'arena quella bomba è molto utile, veramente Praticamente io sto seguendo Sto seguendo là, come si chiama Quei soldini Qua in giro ci sono delle casse Quei soldini, quelle ballette di pesce lì Di calamano, quello che è La borsa Vabbè Questa penso sarà una mappa della modalità online Ancora non ci ho giocato, quindi non so Ma penso di sì Qualcuno di voi magari già lo saprà No, 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 non voglio morire Il cannone che mi fa starire è più meglio Aiuto, c'è un casino Ah, non posso salire di qua Madonna, stanno facendo un casino assurdo Questo livello è veramente maledetto Ho la mappa a disposizione anche Dove cavolo è la cassa? Ci sentiamo di sotto Ma poi il mio scopo quale sarebbe? Non l'ho capito Vabbè, seguiamo le pallette qua Qua non ci sono ancora stato Eh sì, ma sempre sopra vado a finire Ah beh, è vero Dovevo raggiungere il centro Ah, eccomi Ah, devo andare proprio là Ah, arrivato Sì, ma manca La pergamela Dove cavolo è la pergamela adesso? Forse sto dicendo anche questa In che cosa Mi sarebbe piaciuto Non mi resta che controllare ancora Ah, eccola Ci sono delle cose No, ma la riduzione non era qua Ok, ragazzi Ho trovato, penso, la pergamela Praticamente è semplicissima da raggiungere in realtà Questo è il punto finale In cui andate dal pesce scossa E qua dietro Ecco la pergamela Ho tagliato una parte del gameplay Perché l'ho cercata per tutta la mappa Ma è inutile farvi vedere delle cose Che non servono a niente Perciò Ce l'abbiamo fatta Primo livello con dei nemici Un pochettino più Più intelligenti Che hanno un minimo di IA Interessante Penso ci saranno nemici più difficili Perché questi proprio facevano Paradiso perduto di Ottangelo Ok, basta, tutto qua No